Credo che sia un atto importante, linee programmatiche, dove abbiamo evidenziato alcuni contenitori importanti dal turismo in senso generale, alla viabilità, alle infrastrutture, ai trasporti. Quindi dobbiamo immediatamente, appena approvato, in occasione di approvare il bilancio, considerato che andiamo per approvare il bilancio, trovare i giusti finanziamenti necessari per poter sostenere il turismo nelle marche per chi ha fortemente bisogno.